Ciao da Avsim! È possibile che l'annuncio dell'esonero di Massimiliano Allegri arrivi comunque dopo Roma-Juventus di questa domenica 5 maggio alle 20.45, nello specifico lunedì 6 maggio, parliamone a un paio di giorni dalla partita, il giorno prima della sofferenza stampa ennesima ma sempre una delle ultime di Allegri prima di questa sfida, guardando anche un po' il calendario. Il calendario ci dice che c'è questo Roma-Juventus, poi ci sarà in realtà anche Napoli-Bologna alla 36esima giornata, quindi la prossima, ma soprattutto ci sarà Atalanta-Roma appunto alla 36esima giornata, Napoli-Bologna è più una sfida difficile per il Bologna, ma alla fine il Bologna non conta molto perché sta nel mezzo ed è più sul quarto posto, la distanza da calcolare per il discorso Aritmetica Champions è sempre sulla sesta posizione, cioè avere margine sulla sesta e quindi bisogna guardare soprattutto Atalanta-Roma sarà una sfida importantissima con una Roma ancora impegnata di nuovo in Europa League nella semifinale di ritorno contro i Leverkusen a Leverkusen. Poi alla 37esima giornata Fiorentina-Napoli anche questa riguarda più il settimo ottavo posto, così come Inter-Lazio ormai è una partita che riguarda più la Lazio, ma in termini di classifica pochissimo, però c'è Bologna-Juventus, partita veramente decisiva alla 37esima, decisiva magari ecco se non per l'Aritmetica Champions della Juve, per l'Aritmetica Champions del Bologna, ma soprattutto per potrebbe essere il posizionamento, quindi il posto in classifica al di là dei punti. La Roma che poi alla 37esima gioca in casa col Genoa e poi si chiude fondamentalmente con, ecco anche qui di nuovo Genoa-Bologna, Genoa a quel punto probabilmente già salvo e nient'altro perché poi all'ultima giornata l'Atalanta sicuramente una sfida difficile con un Torino sempre aggressivo, sempre difficile da affrontare, ma ampiamente salvo e privo di altri obiettivi perché il Torino con ogni probabilità sarà fuori dalle competizioni UEFA e di conseguenza queste sono le sfide più importanti. Tolte quelle della Juventus che sono ovviamente attenzionate, le sfide più importanti, gli scontri diretti diciamo così, sono Bologna-Juventus e Atalanta-Roma sintetizzando quindi alla 36esima, oltre naturalmente a Roma-Juventus, quindi 35esima Roma-Juventus, 36esima Atalanta-Roma, 37esima Bologna-Juventus e quindi si incrociano queste qui, anche perché guardando la classifica in questo momento giorno tra l'altro di Torino-Bologna abbiamo Inter 89 punti, Milan 70 punti, Juventus 65, Bologna 63, Roma 59, Atalanta 57 con la famosa partita in meno che tra l'altro potrebbe essere recuperata alla fine del campionato dopo il 26 maggio, con ogni probabilità sarà recuperata dopo il 26 maggio, soprattutto se, come pare, l'Atalanta andrà in finale di Europa League, come pare in che senso? Nel senso che hanno fatto 1-1 a Marsiglia contro una squadra ostica, poi si decide a Bergamo però partono dall'1-1 in trasferta quindi in finale ci potrebbero andare. Poi che magari perdono col Bayer Leverkusen si vedrà e ci auguriamo invece che l'Atalanta possa non solo rivincere l'Europa League che non arriva, che sono anni e anni e anni che non torna in Italia, ma soprattutto perché così l'Atalanta di Gasperini vedrebbe coronato un progetto importante con un trofeo importante, poi ci sarebbe anche la finale di Coppa Italia del 15 maggio, quindi magari un trofeo lo vincono anche prima della finale di Europa League però a parte questo che è molto importante comunque per quanto riguarda l'Atalanta, tornando al discorso classifica, poi staccata c'è la Lazio a 55 al settimo posto, ma è chiaro che con quattro partite che mancano, ecco la Juve non è ancora a distanza di sicurezza neanche dalla Lazio, mentre lo è sicuramente dalla Fiorentina, ottavo posto che ha 50 punti anche se con una partita in meno, ma in proiezione massimo 53 e quindi non ci interessa perché sono esattamente, cioè in realtà ci interesserebbe nel momento in cui ecco sono 12 punti, però tralasciamo perché appunto la distanza è esattamente quella, bisogna vedere gli scontri diretti che adesso mi sfuggono, comunque ignoriamo la Fiorentina in ogni caso e quindi, ma ignoriamo in realtà anche la Lazio, è una Juventus che quindi concretamente potrebbe ancora fare sesta, questo è il punto, sesto posto significa sicuramente fuori dalla Champions League, perché è in Europa League, poi in realtà potrebbe comunque essere, potrebbe comunque essere in Champions la sesta, ma solo nel caso in cui a questo punto escludiamo la Roma, l'Atalanta che è in slancio potenzialmente più quinta della Roma, visto che c'è lo scontro diretto e che l'Atalanta appunto è una partita in meno, fosse, se l'Atalanta vincendo l'Europa League si qualificasse al quinto posto, quindi l'Atalanta vince l'Europa League, è quinta e allora il quinto posto Champions scala alla sesta posizione, è l'unico caso in cui ce ne sono sei, in quel caso la Juventus sarebbe, se ne lo si sapesse adesso, in pratica la Juve sarebbe già, quasi già, basterebbero veramente tre punti sarebbe già aritematicamente in Champions, in realtà bastano comunque tre punti, perché, quindi battendo la Roma, per come è stato detto, perché poi ci sono appunto questi scontri diretti, per cui in realtà a livello di proiezione non c'è nessuno che può fare tutti quanti i punti perché in particolare c'è l'Atalanta-Roma, per cui in Atalanta-Roma o pareggiano oppure vince solo una delle due e questo con ovvie conseguenze sulla classifica. Detto questo, che a livello di classifica, quindi la Juventus deve guardarsi bene dal Bologna e se il Bologna oggi, Torino-Bologna, vince, la Juventus poi va due giorni dopo a giocare la partita contro la Roma da quarta in classifica, con l'asterisco, ma da quarta in classifica, e visto che con l'asterisco sulla posizione in classifica qualcuno ci ha fatto dei festeggiamenti smodati che andavano avanti per settimane con tanto di cori, bisognerebbe prendere in considerazione gli asterischi anche quando sono a vantaggio degli altri, o meglio, nel senso che l'asterisco ce l'ha la Juve o il Bologna con una partita in più, ma comunque a vantaggio del Bologna, però appunto stabilito che questa partita con la Roma è, ripeto, decisiva perché se la Juventus vince è aritmeticamente in Champions League, considerando la quinta posizione ovviamente e escludendo la sesta, però c'è anche da dire dall'altra parte che in caso di non vittoria, che succede? In caso di non vittoria potrebbe essere altrettanto decisiva la partita, cioè se la Juventus va aritmeticamente in Champions League vincendo la partita, battendo la Roma, cosa assolutamente non impossibile per come sta la Roma a livello psicologico, a livello quindi mentale e fisico per i tanti impegni e comunque per il fatto che la Juventus ha una rosa forte, ribadiamolo, poi gioca malissimo, ma comunque una rosa forte ed è una partita che può finire in tanti modi, quindi se la Juventus vince e va aritmeticamente in Champions League, a quel punto possono fare l'annuncio delle zone riallegri, anticipandolo, senza mandarlo via però dalla panchina, tenendolo in panchina per le partite successive, quindi la Salernitana, il Bologna, il Monza e la finale con l'Atalanta, quindi le ultime quattro partite di quei tre di campionato, ma dicendo già che fondamentalmente a fine stagione va via, senza annunciare ancora il nuovo allenatore perché sarà Tiago Motta e per quello si deve aspettare quantomeno il 26 maggio, 27 maggio in realtà lunedì 27 maggio, quindi un po' la situazione che si è verificata nel 2019, Allegri fu esonerato due partite prima della fine della stagione, è vero che erano due partite inutili perché Coppa Italia eliminati proprio dall'Atalanta a febbraio, Champions League eliminati dall'Ajax ad aprile, Scudetto già vinto, c'era da giocare contro l'Atalanta in casa e contro la Sampdoria fuori casa, due domeniche 19 e 26 maggio, nell'anno 2024 il calendario dal 29 febbraio in poi è identico, quindi dal primo marzo in poi è identico al calendario del 2019, tra l'altro, quindi ci troviamo con le stesse domeniche e gli stessi giorni della settimana, quindi in quel momento ovviamente, pur essendo ovviamente era un altro momento, c'era tutta un'altra dirigenza, però comunque si annunciò l'addio di Allegri alla fine della stagione facendogli fare le ultime due panchine, questo per dire che non è nulla di impossibile, mi si dirà sì ma c'è la finale di Coppa Italia, non faranno mai fare una finale di Coppa Italia ad un allenatore già esonerato, e perché no? Perché no? Tutte le altre società lo fanno, tutte le altre società lo fanno, tu che addirittura potrebbe vincere la Champions League da allenatore già esonerato, è successo un sacco di volte che l'allenatore aveva annunciato che se ne sarebbe andato, c'era stato Klopp, pensate Klopp, tranquillamente, può ancora vincere la Premier League ma ha già detto che se ne va, sono cose che assolutamente succedono, non è impossibile, lo vediamo impossibile perché non l'abbiamo mai visto fare alla Juve forse, di esonerare o annunciare un addio prima di aver raggiunto qualche obiettivo stagionale, ma se l'obiettivo stagionale lo si vuole raggiungere, non è che se tu esoneri l'allenatore a quel punto l'obiettivo non lo raggiungi, anzi potrebbe esserci una grande risposta da parte dei giocatori, con questo non sto dicendo che auspicò che Allegri venga cacciato anche se lasciato in panchina per il finale di stagione lunedì 6 maggio, a prescindere da come vada, stiamo solo facendo dei ragionamenti sull'importanza della partita, dicendo, una volta raggiunta l'elettimetica Champions, che è l'obiettivo più importante perché la Coppa Italia sposta pochissimo, tanto ormai in Supercoppa italiana già si è, non serve neanche vincerla per andare in Supercoppa italiana, in finale di Supercoppa italiana, si è già in semifinale in Supercoppa italiana, al massimo vincerla o perderla determina con chi giochi in semifinale, perché chi perde la finale di Coppa Italia gioca con l'Inter in semifinale di Supercoppa italiana, ma sono cose che poi riguardano a gennaio prossimo, con tutto il percorso da fare nel mezzo, e quindi l'obiettivo fondamentale una volta raggiunto quello dell'aritmetica Champions, lo si può anche mandare via potrebbe la dirigenza aver già pensato, appena raggiungiamo l'aritmetica Champions annunciamo l'esonero dell'allenatore, che però rimane in panchina per il disbrigo degli incarichi ordinari, delle faccende dell'ordinaria amministrazione, come si dice in termini politici e giuridici. Potrebbe essere questo? O potrebbe essere addirittura che in ogni caso, lunedì 6 maggio lo cacciano, arriva l'annuncio ufficiale, arriva il così tanto auspicato comunicato e quindi la liberazione? Perché in ogni caso? Perché come dicevo, se invece vince la Roma, mettiamo anche caso che nel frattempo vince il Bologna contro il Torino, che non è scontato, il Bologna viene infatti da poche vittorie, due vittorie nelle ultime cinque con tre pareggi, quindi in particolare l'ultima l'ha pareggiata, aveva vinto solo quella precedente, quindi si è un po' frenato, anche se andando a vedere la Juve, la Juve viene da una vittoria nelle ultime cinque con gli stessi tre pareggi e poi però anche una sconfitta, però se il Bologna vince contro il Torino già va a 66, la Juventus perde, quindi resta non solo a 65 ma al quarto posto con la Roma che vincendo andrebbe a 62 e quindi significa che la Juventus sarebbe a tre punti dal quinto posto con l'Atalanta che nel frattempo deve giocare in questa giornata, quindi 35esima giornata, abbiamo l'Atalanta che deve giocare contro la Salernitana, la Salernitana-Atalanta lunedì alle 18, quindi tra l'altro dopo la Juventus, magari in quel caso si potrebbero aspettare le 18 ma anche no, perché onestamente certo la Salernitana può ancora per dignità e per onore non perdere tutte le partite, non si deve dare per scontato, l'Atalanta d'altra parte punterà a vincere perché ha bisogno di quei punti ma deve giocare tra Marsiglia e Marsiglia lunedì a Salerno contro la Salernitana, quindi anche lì non è scontato, però poi magari vince addirittura pure l'Atalanta arriva a 60, quindi la Juventus si trova a soli 5 punti, potenzialmente però 2, più o meno, perché in realtà poi 60 potenzialmente sarebbero 3, in realtà 3 punti dal sesto posto, perché potenzialmente 3? Perché abbiamo detto la Roma vince, va a 62, l'Atalanta vince, va a 60, ma l'Atalanta deve recuperare con la Fiorentina, potenzialmente quindi andrebbe a 63 e quindi il punto di riferimento al sesto posto è la Roma 62, Juve 65, sono 3 punti, quindi questa è una giornata clamorosa, poi ovviamente può succedere da tutto il contrario, vince la Juve, perde il Bologna, perde l'Atalanta, va benissimo, stiamo a ragionare di questo, ma a maggior ragione in quel caso si raggiunge o no l'obiettivo, si raggiunge l'obiettivo aritmeticamente e quindi è praticamente fatta e possono comunque annunciare l'esonero, perché non c'è più in bilico nulla, la Coppa Italia vale quel che vale, ma potrebbe esserci una grande reazione dei giocatori per andarsi a giocare alla grande la finale di Coppa Italia disconoscendo anche l'allenatore, ora sono anche molto ancora vincolati comunque alle direttive dell'allenatore per quel poco che dà, poco o pochissimo che dà, e lo sto chiamando ancora allenatore, però magari con la libertà mentale, con la certezza della liberazione anche per la prossima stagione, chi sa che deve andare via si toglie l'ultima soddisfazione, chi sa che resta invece si impegna ancora di più al massimo per ottenere un obiettivo che poi gli rimane, oltre che nel palmares e nella carriera, anche per il futuro, quindi si può avere anche un effetto positivo dall'esonero preannunciato ben prima della finale di Coppa Italia, senza intervento di traghettatore in questo caso, però sia chiaro, sarebbe un esonero, sarebbe un annuncio che potrebbe essere anche, visto che poi la Juventus deve giocare comunque il, in questo momento non è ancora calendarizzato, no si è calendarizzato il 12, deve giocare il 12, domenica 12 alle 18 Juventus Salernitana, potrebbero anche esonerarlo martedì, tanto non è che c'è, quindi martedì 7 più che lunedì 6 maggio, perché? Perché non cambia, rimane comunque in panchina, quindi che lo dici il 6 prima dell'Atalanta o lo dici il 7 dopo che ha giocato l'Atalanta con la Salernitana, non cambia, non ti pregiudichi nulla, non è che c'è da subentrare un traghettatore che ha bisogno di un giorno in più per allenare no, non è così, semplicemente sarebbe un esonero, tra virgolette, formale, formale e con, anche in realtà sostanziale, ma anzi sarebbe un esonero sostanziale perché va via a fine stagione però formalmente rimane, o se vogliamo un esonero formale, cioè sulla carta però in sostanza rimane in panchina solo fino alla fine della stagione, per il disbrigo degli affari correnti e l'addizione corretta, queste ultime praticamente quattro partite quanto è possibile questo? È la domanda sottesa a tutto quanto questo video considerando che ovviamente c'è anche un'ipotesi intermedia, cioè per esempio Juventus e Roma pareggiano, magari pareggia anche il Bologna però in quel caso non aumenta il rischio comunque di non andare in Champions perché perdi un'occasione, è vero che pareggi in trasferta lui poi venderebbe il pareggio come una cosa positiva come ha già fatto, come ha già fatto adesso, come ha fatto in tutte queste altre in tutte queste altre occasioni, come ha fatto anche dopo il pareggio con il Torino veramente scialbo, con il pareggio con il Milan addirittura è un buon punto con il Milan che rimane a più 5 come fa a essere un buon punto però soprattutto al di là che Allegri non può più fare i punti di Pirlo guardando anche in prospettiva, ne riparrebbero poi soltanto altre 3 quindi solo altri 9, certo potrebbe ancora arrivare a superare a raggiungere e superare i famosi 70 punti ma fermandosi praticamente a 74 che sì, abbiamo detto, dando l'Aritmetica Champions in questo senso, alla fine i punti che mancano li dovresti ottenere con Salernitana perlomeno quindi il 12 o comunque con il Monza alla fine ma ripeto, non è scontato non è scontato, anzi, magari perdendo con la Roma e vedendo che magari l'Atalanta pareggia a Salerno potrebbe essere ancora peggio nel senso che si potrebbe considerare che la Salernitana è più ostica di quello che si pensi e allora avere più timore e più paura io sto ragionando su questo quanta paura, quanto rischio, quanti timori possono avere in dirigenza non tanto Giuntoli che ormai è già sicuro e forse aveva anche già preannunciato quello che poteva essere la situazione ma ai piani più alti dove contano i soldi dove i soldi contano e quindi potrebbero prendere appunto questa decisione o averla già presa, aver già deciso comunque vadano le cose, lunedì lo mandiamo via oppure soltanto in caso di sconfitta e magari vedendo gli altri incastri insomma io direi che questi sono puri ragionamenti che facciamo tra di noi con un minimo di base fattuale però direi che c'è una possibilità io credo che c'è una possibilità che l'esonore di Allegri quindi la liberazione della Juventus cominci già dopo questa 35esima giornata di campionato senza aspettare veramente la fine del campionato è chiaro che l'ipotesi più probabile con la certezza comunque dell'esonero con la certezza comunque della liberazione è l'annuncio ufficiale il comunicato alla fine della stagione martedì 28 maggio lunedì 27 maggio si vedrà senza dover aspettare ovviamente l'Atalanta poi nel caso in cui si debba aspettare il risultato dell'Atalanta con la Fiorentina forse si dovrebbe slittare di una settimana o di qualche altro giorno ma non credo ma più che altro il risultato per sapere esattamente se sei o meno in Champions ma lì sarebbe ma non credo che arrivino a quello perché poi significherebbe perdere con la Salernitana capite allora anche in questo senso perdonatemi a livello di cronologia è proprio perché con la Salernitana tecnicamente hai già vinto che se lo devi cacciare lo cacci prima in che senso nel senso che non puoi aspettare di perdere con la Salernitana per poi fare l'annuncio due giorni prima della finale di Coppa Italia perché con la Salernitana si gioca comunque domenica 12 mercoledì 15 comunque c'è la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta lunedì 13 esonere allegri che poi si presenta in conferenza stampa prima della partita di Coppa Italia il 14 con l'esonere appena fatto è una cosa difficile anche da assorbire psicologicamente pure per i giocatori difficile da digerire c'è bisogno in questo senso sì di più tempo quindi non c'è differenza tra lunedì 6 e martedì 7 maggio ma c'è molta differenza tra lunedì 6 martedì 7 e lunedì 13 molta differenza non puoi aspettare eventualmente di non vincere con la Salernitana se perdi con la Roma se perdi con la Roma mentre se vinci con la Roma chi se ne frega perché ha maggior ragione con la Salernitana hai praticamente già vinto se la linea di demarcazione per l'esonere per il comunicato per l'annuncio ufficiale è il raggiungimento della Rettimetica Champions raggiunta la Rettimetica Champions vincendo con la Roma e magari anche con tutti gli altri incastri si può tranquillamente procedere con l'emissione del comunicato con la pubblicazione della nota della società che in tanti stiamo aspettando talmente tanti che è già successo e è già successo e deve solo succedere però è già successo perché lo percepiamo veramente come qualcosa di reale non so se il video è stato abbastanza chiaro invece confusionario pesante noioso fatemelo sapere comunque con i commenti sono ben accetti tutti i responsi tutti i feedback comprese le critiche ma soprattutto ditemi la vostra che percezione avete pensate che ci sia e quanto questa possibilità di un esonero lunedì lo dico adesso proprio magari anche per prepararci lo dico oggi venerdì 3 maggio proprio anche per prepararci che la settimana prossima potrebbe succedere qualcosa di clamoroso in questo senso comunque vadano oppure solo in una determinata ipotesi tenendo conto di tutti quanti questi incastri non facili e per i quali ringraziamo sempre Andrea Agnelli sempre Andrea Agnelli per quella scelta nefasta di riprendere Allegri a quelle condizioni ma soprattutto Allegri che poi si gloria anche di questo e lo rifarà di nuovo domani in sofferenza stampa che vi commenterò per la vostra gioia cioè del fatto che sono arrivati anche al 3 maggio al 4 maggio al 5 maggio e non hanno ancora raggiunto nessun obiettivo neanche quello minimo dell'aritmetica champions grazie per la vostra attenzione ci vediamo molto presto e per il calcio voglio un allenatore grazie a tutti grazie a tutti